Ehi là, ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. In questo video volevo riprendere un format che era apparso sul canale tantissimo tempo fa e poi non ho avuto più tempo di approfondire, ovvero quello dei consigli per la ricerca di bug su specifici dispositivi. Oggi invece vi vorrei parlare un pochino di più dei consigli per quanto riguarda i computer. Ora, come sempre, prima di iniziare vi ricordo che tipicamente l'approccio migliore da tenere è quello di interpretare che cosa si sta testando, capire quali potrebbero essere i problemi più rilevanti per l'azienda che offre quel prodotto o servizio digitale e da lì andare a testare i flussi che possono produrre problemi più importanti. Chiaramente questo concetto è complicato ma l'approfondisco molto bene in questo video qua che ti invito ad andare a vedere. Essendo però che non è un concetto semplice possiamo dire che c'è qualche ragionamento che possiamo fare in linea generale per andare alla ricerca di bug in maniera più efficace. Ma partiamo subito dal primo punto della lista che più di un consiglio per andare alla ricerca di bug è sicuramente una cosa utilissima che si può fare da computer mentre spesso da cellulare è molto scontro ovvero quella di aprire i link in una nuova scheda. Questo vi permette di avere accesso sia alla scheda originale che alla nuova scheda e di identificare subito quegli errori per cui magari un link non è implementato correttamente oppure è implementato solamente all'apertura non in una nuova scheda ma in una scheda normale. Vi permette inoltre di evitare tempi di caricamento molto più lunghi perché chiaramente se dovete per esempio aprire 20 link ogni volta aprirne uno in una nuova scheda significa semplicemente aprire il singolo link e poi chiudere la scheda non aprirlo nella scheda in cui si è e poi dover tornare indietro perché aprirlo nella scheda in cui si è e poi dover tornare indietro sono due caricamenti aprirlo in una nuova scheda e chiudere una nuova scheda è uno solo. Sembrano stupidate ma vi giuro che poi vi aiutano veramente tanto anche in termini di velocità nella ricerca di bug. Il secondo trucco se vogliamo che non sempre si può fare soprattutto da telefono è quello di modificare le dimensioni delle schermate. Chiaramente bisogna farlo con coerenza non ha senso ridurre una schermata a franco bollo però sicuramente passare da full screen a display window magari modificare anche un pochino le dimensioni delle finestre o portare magari a qualche bug grafico che può essere presente nei diversi siti se le implementazioni non sono state fatte correttamente. Ovviamente appunto l'importante è non abusare di questo trucco tra virgolette. Terzo trucco invece che si può andare a utilizzare è quello di ricaricare più volte la pagina. Ricaricare la pagina più volte è una cosa molto facile e veloce da fare soprattutto su computer rispetto a per esempio cellulari e anche se può sembrare una stupidata è un tipo di stress test per quanto riguarda la pagina stessa è un modo per stressarla. Quindi soprattutto in tutti quei test dove viene chiesto espressamente di fare uno stress test questo è un test che si può andare a utilizzare. Mentre invece è assolutamente a non fare in tutti quei test dove vi viene chiesto di seguire un comportamento tipico di un tente. Chiaramente un utente tipico non andrebbe a ricaricare la pagina dieci volte quindi è meglio evitare. Un'altra cosa molto comoda che si può fare da computer è quella di andare a testare i collegamenti da per esempio mail a di nuovo il sito a cui si sia magari per esempio iscritti. Per dire tutti quei tassi di conferma per esempio della propria email o di iscrizione alla newsletter dovrebbero funzionare correttamente e soprattutto si può copiare il link in email e poi incollarlo in un browser a propria scelta. E infatti qui mi collego al prossimo punto ancora che è proprio quello di cambiare browser. A meno che non mi venga chiesto di utilizzare un browser specifico in una specifica campagna per quanto riguarda un sito provare a vedere se lo stesso sito funziona e se i problemi sono presenti su Firefox, su Chrome, su Safari su qualsiasi altro browser che vogliate è sicuramente un modo per poter andare potenzialmente a trovare nuovi bug. Inoltre anche questa cosa sì si può fare da cellulare è sicuramente meno efficace e non tutti i browser che sono presenti su cellulare ci sono anche su computer e viceversa. Infine un altro trucco è quello di andare a verificare la coerenza del sito per quanto riguarda l'utilizzo del sito in background. Cosa intendo con questa frase? Intendo che se per esempio noi stiamo testando un e-commerce e abbiamo fatto il login con il nostro account sull'e-commerce mi aspetto che mettendo la finestra dietro un'altra finestra e facendo altro per un'oretta io venga buttato fuori dal mio account e debba rieseguire il login. Ecco tutti questi test implicano il mettere in background la finestra su cui si sta lavorando per un certo periodo di tempo e poi riprenderla. Cosa che è molto facile da fare da cellulare ma spesso ci si dimentica che anche su computer deve avere un certo effetto. A proposito di questo mi collego ancora una volta al prossimo punto che è quello di mettere proprio in stand-by il computer. Mandare in stand-by il computer, metterlo in stop, chiudere lo schermo se è un laptop sono tutte azioni che sono inerenti al computer stesso. E quindi chiaramente devono avere una risposta coerente dal sito. Risposta che noi possiamo sicuramente andare a verificare e vedere se troviamo qualche tipo di bug. Infine come consigli extra ve ne voglio dare due in realtà questa volta. Il primo è in realtà un vero e proprio consiglio extra ovvero quello di utilizzare il tasto ispeziona. Per chi sa che cosa sta facendo utilizzare il tasto ispeziona può essere un'ottima fonte di ricerca di bug tramite la console. Però appunto bisogna un po' sapere cosa si sta facendo e dove andare a guardare. Quindi non è sicuramente per tutti. Ma anche banalmente aprire il tasto ispeziona e saper prendere browser logs ovvero i log della console del browser è sicuramente un'attività che può tornarvi utile saper fare perché potrebbe essere di richiesta. Infine ultimo non per importanza c'è la possibilità di mischiare tutti insieme questi trucchi. Pensiamo solamente alla possibilità di avere magari per esempio due browser aperti contemporaneamente modificare le dimensioni delle schermate e verificare che gli elementi siano correnti a destra e a sinistra. Questa è un'attività inerentemente fattibile dalla pc. Quindi in un certo senso è anche importante evidenziare che tutti questi trucchi di cui abbiamo parlato non sono trucchi solamente presi a se stante ma spesso se uniti e anche non vi permettono di trovare nuovi bug sicuramente accelereranno la vostra ricerca di bug sul sito o sull'applicazione per computer che siete andati a testare. Ok ragazzi io direi che per ora per questo video ci possiamo fermare qua. È stato un video molto tranquillo. Ne vorrei fare un altro di questa serie per quanto riguarda la ricerca di bug sui tablet che in realtà è un po' un ibrido tra computer e telefoni. Per cui direi se siete interessati o se volete semplicemente seguire i prossimi video iscrivetevi al canale altrimenti lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate e ci vedremo la prossima settimana in un nuovo video.